a Brando Benifei che è in collegamento con noi, che è deputato del Parlamento Europeo e che dovrebbe appunto... Sono qua, non so se mi sentite. Eccolo. Buongiorno Brando. Sentite, mi vedete? Ok, grazie. Benissimo, grazie. Ciao, ciao a tutti. Un saluto a Pietro che ha parlato poco prima di me adesso. Un saluto ovviamente a Tiziano Pesce, al Ministro Orlando che ho visto che ci ha dovuto lasciare in questo momento, ma proprio su un tema su cui ha lavorato il Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali. Ero impegnato finora per una riunione appunto ed è un tema, una questione che si lega a ciò di cui state parlando oggi. Lo Sport per Tutti, il progetto legato al parere d'iniziativa del Cese, di cui proprio Pietro Barbieri è promotore e relatore, e cioè il tema dell'inclusione sociale attraverso lo sport. Io arrivo appunto adesso, mi collego solo ora, da una riunione sulla implementazione della cosiddetta garanzia per l'infanzia, uno strumento di inclusione per bambini di provenienze svantaggiate, vulnerabili, che è un programma proprio che nasce da una scelta del Parlamento europeo di battersi nel negoziato sul fondo sociale affinché ci fossero risorse dedicate per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà dei bambini. Oggi proprio il ministro Orlando, con cui ho parlato varie volte del tema insieme, è stato implementato a livello italiano, come negli altri paesi, un piano per rendere questo progetto non solo un'indicazione e un'allocazione di risorse, ma una realtà di sostegno ai bambini. Perché faccio questa digressione legata proprio a ciò di cui mi sto occupando in questi minuti? Perché ovviamente anche il tema dello sport e dell'accesso all'attività fisica con tutto quello che riguarda la possibilità di costruire percorsi di inclusione, di cittadinanza proprio attraverso l'attività sportiva, è un pezzo di questo impegno di progettualità europea per l'inclusione dei bambini e la lotta all'esclusione sociale. Lo dico perché credo che questo tema che voi vi state ponendo e che è al centro anche di questa conferenza stampa di oggi, di rafforzare la dimensione europea e l'impegno europeo, la visibilità delle azioni europee a sostegno dello sport sia molto importante e possa avere appunto una dimensione multisettoriale. Perché certamente abbiamo progetti di Erasmus+, abbiamo progetti legati ad esempio al Corpo Europeo di Solidarietà, abbiamo progetti europei anche legati appunto all'impegno del Cese, l'UISP è in prima linea insomma per l'idea dello sport per tutti, non lo devo certo spiegare a voi che siete lì e dunque oggi questo si può arricchire anche in una dimensione sociale che oggi è particolarmente significativa, pensiamo anche parlando dei bambini ma non solo alla presenza che non sarà breve di rifugiati ucraini, numeri molto molto elevati e quindi di nuovo strumento di integrazione, strumento di cittadinanza anche l'attività sportiva. Quindi partivo proprio da questo esempio del lavoro di queste ore per dire che è importante fare sinergia, lavorare insieme, io dico anche mettendo insieme quelle che sono i fondi strutturali, ora faccio riferimento al fondo sociale con la garanzia per l'infanzia, ma poi anche il PNRR, il piano di ripresa. Abbiamo risorse per queste dimensioni della transizione sociale, ecologica e tecnologica. Su tutti questi temi io penso che lo sport e l'accessibilità, pensiamo al tema ovviamente dello sport anche per le persone con disabilità, oltre che come ho detto da contesti di svantaggio, di vulnerabilità, quanto è oggi un tema fondamentale per costruire un'Europa all'altezza dei suoi valori, dei valori fondanti della costruzione comunitaria. Anche di fronte a una sfida che ci pongono autocrazie modelli politici non inclusivi, in realtà di esclusione e di mancanza di integrazione delle varie diversità sociali e delle varie provenienze. Ecco, io penso che noi possiamo promuovere invece un modello inclusivo, un modello sociale dove lo sport può svolgere una funzione davvero di costruzione di cittadinanza, di inclusione e di partecipazione. L'Europa sta finalmente facendo dei passi avanti nel costruire in maniera olistica questo approccio, non più solo con singoli provvedimenti, singoli progetti, progetti pilota, ma con una dimensione di impegno molto più a 360 gradi. Ho fatto qualche esempio, dobbiamo andare avanti e lavorare anche con ovviamente i portatori di interesse sociale e associativo e quindi il lavoro con il CESE è molto importante. Lasciatemelo dire anche, concludo, il lavoro con lo WISP. Voglio ringraziare Tiziano Pesce per questo impegno, tutta la dirigenza per anche la costanza nel lavorare proprio con le istituzioni europee. Ci siamo incontrati anche qui a Bruxelles in diverse occasioni per arrivare poi ad ottenere dei risultati, perché solo se si lavora in squadra le istituzioni e la società si riesce a fare un salto di qualità, anche rispetto a ritardi, a diciamo a problemi che comunque abbiamo ancora nel nostro paese, soprattutto nell'arrivare a chi avrebbe più bisogno di certi progetti, di certi sostegni anche europei e a volte non riusciamo a raggiungerli, non riusciamo a fare diciamo il miglior uso proprio delle progettualità europee. Ecco, in questa fase così particolare anche della storia europea, dell'impegno per una identità anche europea, che certamente è sfidata in questo momento da tante vicende, diciamo, a partire non solo da quelle più recenti, la guerra, ma anche la pandemia, dove certamente la importanza di un modello sociale inclusivo europeo fondato su diritti di accesso a servizi, come certamente sono la sanità, la scuola, ma anche l'attività sportiva per tutti, ecco, con tutto quello che abbiamo vissuto, oggi abbiamo bisogno di rilanciare un nostro progetto europeo fondato su alcuni aspetti anche identitari. Io credo che l'inclusione sociale attraverso lo sport, lo sport per tutti, debba essere e sia un pezzo di questo impegno. Quindi grazie per il vostro lavoro, continuiamo a impegnarci insieme per questa dimensione europea dello sport e dello sport per tutti. Grazie a WISP, grazie a tutti gli interlocutori che hanno partecipato, al CESE, a Pietro, a Tiziano, a tutti voi e grazie, buon lavoro e a presto, alla prossima.